Ciao a tutti e bentornati all'appuntamento video settimanale. Nelle ultime due settimane avevo iniziato a raccernarvi per quanto riguarda il benessere. Oggi continuerò il discorso però incominciando andare un attimino a vedere quali sono gli elementi importanti per il nostro corpo. Ho trovato un sito molto interessante, ovviamente non vi leggerò in dettaglio, ma vi metterò in descrizione il link così ve lo potete leggere con calma. Ecco a voi il sito, ovviamente ci sono un po' di pubblicità e link laterali che purtroppo ci sono dappertutto. Comunque di cosa si parla? Un elemento traccia che sono dei micro elementi necessari per il corpo umano. Poi c'è una piccola introduzione. Che cos'è un elemento traccia? Sono degli micro elementi, i quali qua vi fa vedere una fotografia. Come esempio i benefici degli oligoelementi per il corpo. L'utilità per quanto riguarda l'immunità. Eh, sembra la fotografia qua. L'interessante sono un po' di prodotti da poter mangiare. Al momento ne interessano. O vediamo qua quali sono. Iodio, ferro, calcio, zinco, rame, manganese, molibdeno, fosforo, magnesio e selenio. Cosa causa la mancanza degli elementi in traccia? Cosa causa la mancanza di elementi in traccia? Le malattie che possono generare i segnali che ci sono, che il corpo ci dà, in qualsiasi caso, non solo per quanto riguarda la mancanza di qualche micro elemento, ma anche quando noi, noi ci prendiamo cura del nostro corpo, della nostra vita. Ma bisogna saperi leggerci, no? Dopo, eh, 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 arrivano conseguenze anche gravi, se non fatali. Poi abbiamo alcune, crescita dei capelli lenta, secchezza e pallori della pelle, debolezza muscolare, unghie fragili, carie dentarie, fallimenti, ritmo cardiaco, sviluppo di patologie autoimmuni, problemi con la memoria, disordine del sistema digestivo. Poi abbiamo in dettaglio, qualsiasi avevo lo iodio, il ferro, zinco, manganese, cosa minaccia la cadenza di magnesio, polghi elementi negli alimenti, invece, sono una serie di elementi, contenuti vari elementi, qua, ok, solite cose che più o meno si sentono, e niente, poi qua c'è altra roba che, non gli interessa, invito a leggere in dettaglio perché è molto interessante, come al solito, non è l'unico sito, però, questo qua è utile per darvi un'idea. Bene, spero sia stato interessante, vi auguro buona settimana, noi ci aggiorniamo tra sette giorni per un altro argomento riguardante al benessere. Vi auguro inoltre buon Natale.